Oh, quel rito! Ho fatto abbastanza danni! Tutto questo imbroglio mi è costato una fortuna! Se non fosse stato per Spiro sarei rovinato! Se Rick fosse qui gli darei una bella lavata di capo! Veramente gli darei molto di più! Ero campione di pesigallo a scuola e ricordo ancora qualche mossa! E' questo! E' questo! Ero! Oh! Go! Go! Oh! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti insegnerò per... non so... una somma modesta. Non lo rimpiangerai. Ok, quando vedi un muro scalabile, come quello alla mia sinistra, saltaci su e mantieni la presa con le unghie. Usa i tasti direzionali per spostarti in su e in giù e premi di nuovo salta per scendere. Puoi anche saltare di lato su un'altra superficie scalabile. Grazie a tutti. Oh, Spiro, ciao! Stavo trafficando con questa porta e credo che il potere di qualche sfera possa aprirla. Ho visto che hai raccolto un buon numero di sfere là. Le sfere sono molto potenti, Spiro. Prendine un po' ora e non te ne pentirai. Ce ne sono almeno due in ogni mondo di Avalar. Posso farti entrare nel piccolo castello laggiù in cambio di un po' di gemme. Cosa ne dici? Per anni non è più passato nessuno per quel portale. Non pensavo che avrei trovato un babbeo. Voglio dire, sei un cliente a corto, Spiro. Divertiti laggiù. Salutami Ripto, se lo vedi. Ciao, Spiro. Ripto e Gulp si nascondono in una stanza del castello sotto di noi. Ti occorrono tutti i 14 talismani per forzare la serratura e raggiungerli. Spiro. 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 Grazie a tutti. 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 Con tutto questo denaro posso aprire un lucertola burger nei calanchi di Schelos. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scommetto che un drago veloce come te vincerà i soldi in un battibaleno. Buona fortuna per legare, Spiro. Buona fortuna per legare, Spiro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.